Mi dispiace solamente dall'orgoglio che sta accendo Si mortifica ogni giorno per la mano che fa niente Che non vede la coscienza, che non vede il rispetto Quando fa una vita suona, buona sera, rindoletta Rindoletta, rindoletta, buona sera, rindoletta Rindoletta, rindoletta, buona sera, rindoletta Carissimi amici, pensionate e pensionate Ci rivediamo, un nuovo appuntamento con voi Per parlare delle cose come le vediamo noi E come vorremmo che i pensionati le pigliassero in considerazione Noi siamo convinti, non a caso abbiamo voluto dedicarci Attraverso questa nostra presenza, che è una presenza di partito Partito pensionati d'Europa Significa, raccoglie nel simbolo che voi vedete alle mie spalle Tutto una visione, cioè la grandezza di una grande parte di popolazione Che è quella parte di popolazione che ha vissuto la sua vita E che sono i pensionati E che hanno raccolto nelle loro persone un'esperienza eccezionale Noi parliamo dei pensionati di ogni categoria sociale Noi parliamo dei pensionati tutti quanti Perché li consideriamo Ecco, parte di popolo che merita Grande rispetto Da parte di tutti quanti E a cominciare dalle istituzioni Non è possibile Ecco, prendere sotto gamba La presenza di tanta parte di popolo E purtroppo avviene Avviene perché abbiamo una rappresentanza istituzionale Che è fuori dalla realtà Che va alla ricerca di cose strane Cioè che non si interessa dei fatti reali Che si svolgono all'interno e nell'ambito della società Che li ha delegati a rappresentare Tutto quanto si svolge in quell'ambito Invece loro vanno, fanno i voli pindarici Se ne vanno per altre strade E ignorano oppure mortificano il passato Mortificare il passato significa Non volere andare da nessuna parte Perché distruggendo quelle che sono le tradizioni Quello che è il bene creato dai pensionati Non si va da nessuna parte E non si va da nessuna parte Creando lo scontro tra pensionati e giovani Cioè se queste istituzioni Se questa politica Non ha saputo dare alla gioventù Le speranze E una realtà occupazionale adeguata E che non gli ha saputo dare Un modus vivendi Che abbia consentito a loro Di essere soddisfatti E di darsi ancora di più da fare Cioè se ci sono delle prospettive Qualsiasi giovane Ecco che abbia un po' di sale in zucca E si dà da fare Dice io ho la possibilità di fare queste cose Certo se le prospettive non ci stanno Se si ingenera nell'ambito di questa gioventù La convinzione che tutto è negativo Che tutto è falso Che tutto è un affare Che tutto è affarismo di politico Ecco e allora si passa E si trasmette a loro L'intento della protesta Fine a se stessa E' quello che si sta verificando oggi E quando io sento invece E' perché questo ce lo dobbiamo dire E sento che qualcuno Che nasce E qui io voglio ripetere Qualche frase che è stata detta Che io sono spesso accusato Di portare i pensionati dal lato di Berlusconi E di non farli stare a sinistra Io non porto i pensionati da nessuna parte Barrate bene Io dico ai pensionati Che noi dovremmo essere autonomi Nella gestione Non dei nostri interessi Ma della nostra rappresentatività Se i pensionati decidessero Di stare tutti quanti insieme Di dare forza Per esempio Al partito pensionati d'Europa Noi non avremmo bisogno In campagna elettorale Di schierarsi Con gli uni o con gli altri Per poter tentare Di inserire i pensionati Nelle istituzioni Noi andremmo avanti da soli Presenteremo le nostre liste Raccogliendo le firme In tutte le parti d'Italia Ma come facciamo A fare una cosa del genere Oggi come oggi Se non abbiamo questa nostra diffusione Ecco perché vedete Vedete sui nostri recapiti telefonici Vedete un numero di 27 cifre Che è l'Iban del nostro conto corrente Noi siamo alla ricerca di sponsor Noi abbiamo bisogno di chi ci dia una mano Per poterci estendere Anche nelle altre parti d'Italia Perché? Perché il popolo dei pensionati Ha bisogno di essere rappresentato E ha bisogno di poter dire Nelle serie opportune Ecco Non mettete I giovani contro gli anziani Le pensioni sono qualcosa Di nostro Lo abbiamo accumulato noi Con i nostri sacrifici Non ci potete bloccare le pensioni Non ci potete Relegare in un cantuccio Non ci potete considerare Bancomat Non ci potete considerare In subordine Rispetto al resto Della collettività Anche perché Noi ancora oggi Come pensionati Siamo utili Non solo A noi stessi Alla nostra famiglia ristretta Ma siamo utili Alle famiglie allargate Noi siamo utili Ai giovani Che si sposano E che non ce la fanno accampare E che magari ospitiamole Nelle nostre case Noi siamo utili Quando dobbiamo andare Ad assistere Ecco I giovani Che nelle loro occupazioni Non hanno possibilità Poi Di munirsi E di avere Babysitter Oppure di avere Scuole Ecco Con orari prolungati Perché le istituzioni Non funzionano Non gliele danno E poi parlano di occupazione totale Ma come si fa Ad essere occupati totali Se non ci sono le strutture Che agevolano I nostri figli E i nostri nipoti E non mettono Nelle condizioni Praticamente Di poter lavorare E poter portare Il pane a casa Sì Perché noi Facciamoci anche Questo ragionamento Abbiamo E' passata Una politica Della piena occupazione Maschi e donne Allora Noi in un'epoca Andata Ecco Molto spesso La donna Sceglieva Di stare in casa Non ricercava proprio Il posto di lavoro E Non avevamo bisogno Di babysitter Perché La famiglia Veniva Curata Nella sua Interezza Dalla donna E dall'uomo Che Lavorando all'esterno Portava il reddito A casa Oggi Si è voluto Stravolgere Tutto questo E va bene La libertà Della donna Di andare al lavoro Però La donna Va al lavoro E alla casa Chi è che ci pensa Ci vuole La scuola Che funzioni E non ce l'abbiamo Ci vogliono Gli asili nido E non ce le abbiamo Ci vogliono Tutte le strutture Necessarie E non ce le abbiamo Che cosa Dobbiamo fare Dobbiamo farci venire La babysitter A casa Dobbiamo chiedere Chi ci va A prendere Il bambino O la bambina A scuola Chi ci fa E aiuta Nello studio I nostri Giovani Che crescono Queste cose Oggi Non si possono Ecco Non Si possono fare E che cosa succede Che Chi se lo può Permettere Lo fa Chi ha i nonni E le nonne Magari può arrangiare Chi non ha i nonni E le nonne E non ha un reddito Adeguato Non ce la fa Quindi Il giovane pensa Dice Io non mi sposo Io non faccio figli E la società Paga Allora Quando io Ecco E Voglio Invitarvi Alla riflessione Quando io Verifico In un momento Di Grande Scontro Politico Tra chi vuole La modifica Della costituzione E tra chi Chi non la vuole Siamo chiamati A votare Il sì O il no Perché dobbiamo Approvare O meno Le modifiche Che sono state Apportate In due anni Di lavoro Dal Parlamento In carica Noi Praticamente Dobbiamo andare A riflettere Abbiamo riflettuto Che cosa C'è In questa Legge Che è passata Tre volte Alle camere E tre volte Al senato E quando ci rendiamo Conto Che in questa Legge Vengono presi In considerazione Taluni fatti Che sono Importanti Che riguardano La scuola L'istruzione La preparazione Al lavoro I corsi Di formazione Che riguardano Il funzionamento Della sanità Che riguardano Il funzionamento Delle Delle aziende Che fanno Che hanno bisogno Di commerciare Di commerciare Con l'estero In qualsiasi parte Dell'Italia E del territorio Italiano Dove si trovano E Praticamente Viene previsto Un diverso ordinamento Che regola I rapporti Tra lo Stato Centrale E lo Stato E gli enti Periferici Cioè Le regioni I comuni Le aree Metropolitane Perché Il tutto Possa svolgere Secondo criteri Non solo Di automatico Risparmio Ma di Agevole Funzionamento Io dico Come facciamo Noi Dall'alto Delle nostre Esperienze Dall'alto Del nostro Essere Stato Coloro i quali Hanno portato L'Italia A raggiungere Vette importanti Nell'ambito Mondiale Cioè Addirittura Siamo diventati La sesta potenza Mondiale Senza avere Ecco Le materie prime Che ci potessero dare Questa Questa rappresentatività Noi dobbiamo Entrarci Abbiamo il dovere Di farlo Abbiamo il dovere Di perorare Le modifiche Abbiamo il dovere Di dire sì Alle modifiche Già apportate E di essere Parte attiva Attraverso Ecco Il crescere Della nostra Organizzazione E il tentativo Di portare I nostri rappresentanti Delle istituzioni Per poter Collaborare Per poter incidere Nella maniera migliore Nel fare leggi Magari Migliori Di queste A livello Di modifiche Per poter Restituire Agli italiani Agli italiani Che soffrono Ai pensionati Che soffrono E che sono parte Di quell'Italia Che soffre E che Purtroppo Non trova Spazi Di assistenza Assistenza Generale Non lo trova Dal punto di vista Del Regolazione Delle pensioni Non lo trova Dal punto di vista Dell'assistenza Sanitaria Non lo trova Dal punto di vista Della Tranquillità Della sua Vecchiaia Ecco Non lo trova Perché Dalle pensioni Si trattengono E lo Stato Trattiene Il 30 Il 40% Di tasse Queste cose Vanno Affrontate E modificate Modificate Perché Si possa Poi Tra l'altro Ecco Restituire In termini Di efficienza E Di visione Generale A quelli Che vengono Dopo di noi La possibilità Di poter arrivare Ad essere Anch'essi pensionati Dopo aver svolto Attività lavorativa Noi Non digeriamo Io non digerisco Il fatto Che Io Per me A 22 anni Avevo già Il posto di lavoro Certo Non nella mia città A Torino Fatto anche io L'emigrante Va bene Ma l'ho fatto Con tanta convinzione E ottenendo Dei risultati Perché c'erano Le possibilità E c'era L'impegno Io non posso Sopportare Che un giovane Oggi Abbia 35 40 anni E ancora Stia nella Casa dei genitori Non è possibile Una cosa del genere Ma questo non dipende Dal giovane Guardate Dipende dalle istituzioni Dallo Stato Dipende dallo Stato Che non deve dare False speranze Ai giovani Che deve dare Invece Delle realizzazioni Ai giovani Allora Benvenga Che un giovane Che diventa Capo del governo E che dovrebbe Essere preso Da esempio Berlusconi E qui mi riallaccio A quello che stavo Dicendo La settimana scorsa Ha definito Renzi Un leader Io Dico Renzi è un leader Perché ha saputo A 41 anni Diventare capo Del governo In Italia In un paese vecchio Che non Accetta Le novità E allora Se Tutto questo È potuto Avvenire Io dico I giovani Devono stare Dalla parte Delle novità Le istituzioni Devono dare Ai giovani La possibilità Di Ridiventare Parte attiva Già Dall'età Post Scuola media Superiore Non devono Attendere L'università I corsi Di formazione E tutto quanto Il resto Perché sono Diversivi Che non mettono Nelle condizioni All'Italia Di crescere Perché in questa maniera Non ci si sposa Non si diventa Padri Madri E non si dà All'Italia La linfa nuova Per poter diventare Grande Come lo è stata Nelle epoche Quando è stata Riconosciuta Sesta potenza mondiale Vi lascio Con queste affermazioni Un po' pesanti Vi lascio Con la speranza Che voi ci seguiate E che diate corso A queste nostre Richieste Di starci vicino Di farci crescere Di contribuire Alla nostra crescita Anche utilizzando Liban Che vedete In sovra Impressione Arrivederci Arrivederci Alla prossima Trasmissione Amiche pensionate Amici pensionati Evasori legalizzati Terrete a giù Auto blu Sangue blu Cieli blu Amore blu Rocca blu Cieli blu Cieli blu T'errechoe più Sandra Mastella, Clemente Mastella, Vittoria Brambilla, Bosse e Panella, Dribla, Labo per Martina Stella, le solite foto su novella, T'errechoe più Bassolino, T'errechoe più Platinetto, T'errechoe più